Consigliere Pomante, siamo qui in centro storico per evidenziare lo stato di degrado in cui versano alcune vie. Parliamo di Via Stazio, Via Muzzi e la zona dell'anfiteatro. Che cosa c'è che non va? C'è che non va questa amministrazione, questa amministrazione che pensa alle feste in piazza e ormai completamente ha abbandonato la città. Lo stato di degrado di Via Stazio, di Via Muzzi, di largo dell'anfiteatro, dimostra che questa amministrazione non ha più nulla da dare ormai a questa città che farebbero bene ad andare a casa. Questo tunnel realizzato alle mie spalle ha tolto la luce del sole ai cittadini di questa strada. Adesso non è più neanche illuminato nelle ore lotturne perché le lampadine nel frattempo si sono fulminate. È sempre sporco, sporchissimo perché non viene quasi mai pulito da chi dovrebbe provvedere in tal senso. I cittadini sono esasperati e si rivolgono a me per cercare di rimuovere questa struttura che tra l'altro da alcuni ingegneri è stata giudicata assolutamente inutile ed insufficiente in caso di ribaltamento della facciata del Braga. Peraltro bisognerebbe capire chi e come ha fatto le verifiche sismiche per il Braga, capire cosa sta realmente succedendo a questa struttura che è stata evacuata in tutta fretta ma della quale sembra che non si interessi ormai più nessuno. La situazione di Via Muzzi non è migliore perché c'è una casa che è stata sostanzialmente ingabbiata due anni fa, si presenta in uno stato di degrado incredibile anche dal punto di vista sanitario perché i ratti sono ormai di dimensioni superiori al chilo e soprattutto quelle transenne, quelle impalcature non sembrano poter in alcun modo garantire la sicurezza di quella via e di quella struttura. Tra l'altro guardandola da largo dell'anfiteatro dà un'idea di quello spazio che dovrebbe essere recuperato come tesoro archeologico terramano che è veramente imbarazzante. Che cosa propone lei? Propongo innanzitutto un progetto per Teramo, dobbiamo pensare a questa città come la vogliamo tra vent'anni e iniziare soprattutto a pensare a cosa fare di questa città, come modificare la viabilità che così non può assolutamente andare, come modificare i suoi spazi, recuperare per esempio degli spazi che oggi non vengono utilizzati, che sono in mano a dei privati per motivi che non sono chiari, locali che non vengono utilizzati, recuperare quegli spazi che la cittadinanza dovrebbe vivere e che in questo momento invece sono a pannaggio di pochi o sono addirittura abbandonati a loro stessi senza alcuna cura, senza alcun tipo di manutenzione.